andiamo a filmare iniziate la partita dai cazzo dai no dai no tira guarda mia che mozzarella che ti dà guarda la sei vinta cazzo la piazzini devi andare di potenza vare annullato il gol dai annullato un altro gol guardalo 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 dai dai vai vai grande 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 si è così ma hai visto come si è lanciato ma io ti dico ma c'è l'elite che cazzo fai qui nel primo tempo bella partita 1 a 0 per noi si vai a dico secondo tempo sempre 1 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 guarda guarda il taglio guarda il taglio dai 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 gol eeeh grandi grandi grandissimi bellissimo gol guarda guarda il taglio guarda il taglio guarda il taglio '. Rani No No Manda lui la nasce Casa re tutti a casa Bello Angolo Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie ragazzi.